e allora sei pronto a fare uscire insieme a me fuori dai gangheri quei gran vampiri succhia soldi che rispondono al nome di tecnici informatici come il sottoscritto ebbene sì oggi i colleghi mi perdoneranno o almeno spero di non trovarmi di sotto casa armati di mazze e bastoni perché voglio presentarti uno strumento di relativa recente introduzione in windows che consente letteralmente come vedrai con due clic di fare un'operazione che normalmente è abbastanza costosa e alludo all'operazione di formattazione reinstallazione del sistema operativo salvataggio di tutti quanti i dati e salvataggio anche delle nostre impostazioni insomma mi dai un computer che non funziona e io te lo ridò perfettamente funzionante senza che tu perda niente e questo con uno strumento ovviamente nascosto ovviamente dal nome assolutamente fuorviante che non conosce quasi nessuno che è stato introdotto proprio dallo zio bill in persona e allora cosa perdiamo tempo andiamo a vederlo insieme e se ti senti pronto iniziamo ma come possiamo anche solo pensare di iniziare un video senza aver adeguatamente omaggiato loro ma come chi le tanto famose quanto irascibili divinità del tubo e procediamo quindi in mantenente con il nostro consueto rituale apotropaico disclaimer i contenuti di questo video sono esposti a puro scopo informativo ed educativo andiamo avanti va e per dimostrare l'efficacia di questo strumento eccoci qui su una macchina che ho personalmente sabotato in modo veramente orribile devo dire è che sembra uscita da uno dei nostri peggiori incubi qualsiasi cosa infatti tentiamo di lanciare su di essa o quasi ci restituisce immancabilmente lo stesso errore errore nell'aprire il file contattare l'amministratore e non c'è praticamente niente che funzioni tranne due cose nella fattispecie si tratta di internet perché riesce ancora ad accedere ad internet e questo è il primo requisito fondamentale per utilizzare questo strumento mentre il secondo requisito è che funzioni il tasto start oppure il tasto di ricerca per andare ad aprire questo strumento cliccheremo infatti proprio sul tasto start ed una volta avviato lo start entreremo nella finestra delle impostazioni sul lato sinistro dovremo scegliere questa voce qui quella che si chiama sistema ed una volta aperto il sistema dovremo scorrere in basso fino ad individuare questa voce qui quella che si chiama ripristino andiamo ad aprirla e troveremo alcune voci tra cui una veramente fuorviante al suo interno si tratta di questa qui quella che si chiama risolvere i problemi relativi all'uso di windows update ebbene benché naturalmente possa servire anche a risolvere dei problemi derivanti da aggiornamenti difettosi di windows update la sua funzionalità è estremamente più ampia quello che fa infatti questa funzione è andare a scaricare dal sito microsoft ed ecco perché abbiamo bisogno del collegamento ad internet una copia funzionante del sistema operativo installato sulla nostra macchina andrà a sostituire questa copia alla copia attualmente in essere quella difettosa come in questo caso e a conservare tutti quanti i nostri file quindi non perderemo assolutamente nulla tutti quanti i nostri programmi e in caso ad esempio di driver difettosi laddove disponibili andrà a sostituire questi driver con i driver microsoft un'altra cosa tuttavia va detta questa funzionalità non è esattamente di primo pelo non è nuovissima ma recentemente è stata fortemente rimaneggiata e migliorata rispetto alla sua introduzione originale che è avvenuta con windows 11 22 h2 e per i possessori di windows 10 mi dispiace non esiste assolutamente niente di simile su windows 10 e come sappiamo non verrà introdotta anche perché windows 10 nell'ottobre di quest'anno verrà completamente dismesso da microsoft ma andiamo a vedere adesso come utilizzare veramente con due click questa fondamentale funzionalità la prima cosa da fare naturalmente in corrispondenza di questa riga sarà fare un click sul pulsante reinstalla ora immediatamente ti comparirà questa finestrella che ti consente di selezionare questa casellina che riavvia automaticamente il pc 15 minuti dopo il termine dell'operazione l'operazione come vedremo è parecchio lunga ma non richiede assolutamente l'intervento dell'utente quindi potrai come probabilmente farò io andarti a sgranocchiare qualcosa mentre l'operazione viene eseguita in maniera del tutto automatica io in questo caso non scelgo di selezionare questa casellina ma se tu vuoi fallo tranquillamente dopodiché clicca sul pulsante ok vedrai che partirà questa operazione che dice in realtà ricerca di aggiornamenti quello che sta facendo non è ricercare degli aggiornamenti bensì andare a scaricare una copia di ripristino del nostro sistema operativo come vedremo tra un attimo eccola qui versione di ripristino che viene scaricata in alcuni secondi come hai visto prima probabilmente ti comparirà anche temporaneamente quel messaggio di errore giallo è un piccolo difetto di questa applicazione che non inficia assolutamente il suo funzionamento attendiamo a questo punto il termine di questa operazione non esattamente brevissima ok l'operazione è terminata e io ho mangiato circa 240 mandarini come questo che sta tremando perché è l'unico superstite rimasto ma a questo punto tutto ciò che dobbiamo fare è semplicemente un click sul pulsante riavvia ora attendere il riavvio della nostra macchina che nel frattempo sembrerà applicare alcuni aggiornamenti ci vediamo tra un attimo ma soprattutto ci vediamo con il quesito sarà riuscita a risolvere tutti quanti i problemi del nostro computer o lo scoprire il tempo di dare fondo alla cambusa e rieccoci qui con il nostro sistema ripristinato ma il quesito rimane questo ripristino sarà riuscito a sistemare tutti quanti i papocchi che avevo prodotto artificialmente in questo computer andiamo a verificarlo file per file ebbene sì il nostro pc funziona si apre si aprono le cartelle che prima non si aprivano si apre il nostro documento vuoto si apre regolarmente il disco c passiamo ai programmi si apre direi sì si apre microsoft edge e si apre scommetto anche google chrome insomma un bello strumento che ti ripristina il computer letteralmente con due clic pensa solamente quanti soldi può farti risparmiare un software di questo tipo pensa che è gratuito pensa che è già inserito in windows e quindi è certificatissimo da microsoft insomma possiamo a pieno titolo definirlo una vera mandracata ma passiamo avanti perché non vedo l'ora di arrivare ai ringraziamenti del giorno e questo in particolar modo oggi perché domenica scorsa non ho avuto come ho già detto in un video precedente occasione di farli e siccome si sono accumulati tattata stavolta ho la mia brava listina scritta appenna come gli antichi e quindi procediamo senza meno a ringraziare luigi sampo marco ducati fabio maurelli raffaele ponticelli claudio francini lionello cremaschi augusto bonanni raghi rar federico ferretti che si sono abbonati oppure hanno rinnovato il loro abbonamento alla community dei gentiluomini e quindi con vero piacere che vi do il mio personalissimo ben rimasti a bordo oppure benvenuti a bordo ma ringraziamo anche e soprattutto loris capponi che si è abbonato sì ma attenzione lo ha fatto in qualità di distinto gentiluomo e quindi caro loris è un vero piacere ed un onore togliermi ancora una volta il cappello farlocco davanti a te non abbiamo sicuramente finito perché ringraziamo anche vampirino 8 roberto russo davide pincelli federico 8479 per distinguerlo da federico 8478 suppongo e marco ducati che hanno voluto contribuire con i loro generosissimi super grazie alla vita e al sostentamento di questa community e manca ancora un particolarissimo ringraziamento che è quello rivolto proprio a te che hai guardato questo video mi hai fatto compagnia nel corso di questi minuti e detto questo non mi resta che salutarti e darti come di consueto appuntamento alla prossima